Bene ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca proprio con il primo servizio. Al culmine di una lite furibonda scoppiata tra le mura domestiche accoltellò la moglie, il principale bersaglio della sua fura omicida e i figli. L'episodio avvenne a Colfranquidio d'Erzo in via San Magno il 7 luglio dello scorso anno e nei giorni scorsi il responsabile dell'aggressione, Ahmed Adil, operaio di 61 anni, è stato condannato in primo grado dal giudice Angelo Mascolo a una pena di 10 anni e due mesi di reclusione per duplice tentato omicidio nei confronti della conuge e del figlio maggiore che tentò di difenderla e per lesioni personali aggravate per aver ferito gli altri due figli che si trovavano in casa. Il processo, celebrato con la formula del rito abbreviato, si è tenuto in tribunale a Triviso con legali e protagonisti di questa vicenda, distanziati e muniti di mascherine e guanti. Ahmed Ali e la moglie, in Italia da almeno 35 anni, vivevano in una palazzina di Colfranquidio ed erano ben integrati nel tessuto socio-economico pitergino. L'operaio lavorava onestamente, non aveva mai avuto problemi con la giustizia. Purtroppo negli ultimi tempi i rapporti tra i due erano diventati particolarmente difficili, con liti continue che hanno toccato l'apice nell'aggressione di quella domenica 7 luglio 2019. Ahmed Adil, completamente fuori controllo, afferrò un coltello, ferì a un braccio e all'addome il figlio Muhammad e poi la moglie Mina Alami, colpita furiosamente al volto, alla pancia e a un seno. I legali di Ahmed Adil, gli avvocati Poloni e Arrigo hanno annunciato che presenteranno ricorso in appeglo. Si sono detti soddisfatti della soluzione dall'accusa di maltrattamenti. Il pubblico ministero, Massimo Zampicini, aveva chiesto l'ergastolo, pena ridotta a 30 anni di reclusione per lo sconto dovuto al rito abbreviato. Il risarcimento pecunario sarà definito in sedi civile, anche se il giudice mascolo ha quantificato una provisionale di 50.000 euro per moglie e figlio, gravemente feriti nell'aggressione. Gli altri due figli, Javad e Samia, feriti leggermente, non si sono costituiti parte civile. Il raptus dell'operaio avrebbe potuto avere conseguenze pesantissime. Il figlio Mohamed fuggì saltando dalla finestra, rifugiandosi in una vicina pizzeria da dove allertò il 112. La moglie prima rincorse il marito, poi riuscì a barricarsi nel condominio chiudendo il poltrone prima che questo tornasse. L'operaio allora suonò tutti i campanelli del condomini, gridando con un coltello in mano ad aprire perché doveva ammazzare la moglie. L'uomo scappò in bicicletta, venne poi rintracciato e arrestato dai carabinieri per il duplice tentato omicidio, lesioni personale e per i maltrattamenti in famiglia. Avvocato Teso, da più parti i commercianti lamentano regole chiare che mancano dal governo per quanto riguarda le responsabilità se un dipendente contrae il coronavirus. La legge in questo senso cosa dice al momento? La situazione è effettivamente molto delicata e anche abbastanza complessa perché il decreto legge e cura Italia, il decreto del 17 marzo scorso, all'articolo 42 ha stabilito chiaramente che nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige certificato di infortunio, cioè questo ha parificato la malattia da coronavirus a infortunio sul lavoro. La conseguenza evidente è che in caso di infortunio sul lavoro ci può essere responsabilità del datore di lavoro, che quindi può essere chiamato dall'INAIL in regresso a risarcire quanto l'INAIL ha versato al lavoratore a causa dell'infortunio barra malattia. Sappiamo che è una malattia molto grave che può avere esiti anche disastrosi e quindi possiamo immaginare che il terrore dell'imprenditore è di poter essere coinvolto in una situazione del genere, una situazione tra l'altro definita pandemica, per cui è evidente che dimostrare il luogo in cui l'infezione si è verificata è quantomai difficile, se non impossibile in sostanza. Io potrei aver preso la malattia sul posto di lavoro, ma anche a casa da mia moglie e miei figli o al supermercato mentre faccio la spesa. E non è dimostrabile. Non è dimostrabile. Per questo l'INAIL si avvale di presunzioni. La presunzione è una deduzione logica, per cui da un fatto noto io desumo l'esistenza di un fatto ignoto. La presunzione cosa dice? Se il lavoratore che si infortuna o si ammala è un lavoratore esposto a elevato rischio sanitario, un infermiere o un medico, c'è una presunzione di responsabilità del datore di lavoro, proprio perché questa esposizione è così pressante che il rischio di aver contratto il virus sul posto di lavoro potremmo dire è molto elevato e appunto si presume la responsabilità del datore di lavoro. Non c'è questa presunzione invece nel caso in cui i lavoratori non siano soggetti in cui il rischio sanitario è elevato. Quindi possiamo pensare all'operaio in catena di montaggio. L'INAIL però estende questa definizione di soggetto esposto e l'ha parificato all'operatore sanitario anche i soggetti che hanno una frequenza, un contatto con il pubblico particolarmente intenso. Da qui ad arrivare a dire che può essere a rischio sanitario elevato anche il cassiere di un supermercato, l'addetto alla receptionist di un albergo o comunque chi lavora dietro il banco di un bar, capite che significa addossare al datore di lavoro un rischio elevatissimo in cui la prova contraria è quanto mai difficile. Le associazioni di categoria sono in sorte su questo, per dire oltre ad avere gli esercizi chiusi rischiamo domani che apriamo di dover rispondere anche di un risarcimento notevolissimo per una malattia che può essere stata presa anche altrove e non certamente sul posto di lavoro. Pressati da queste esigenze, da queste lamentele, il governo è intervenuto ieri, è intervenuto però informalmente in conferenza stampa, è intervenuto il sottosegretario al lavoro, Stanislao di Piazza, che ha dato un chiarimento verbale, sicuramente non è la soluzione del problema, però intanto è un primo chiarimento e oggi possiamo dire questo, che la responsabilità è ipotizzabile, secondo il sottosegretario, solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e in particolare di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare l'emergenza. Questo cosa significa? Che se il datore di lavoro si è adeguato ai protocolli di sicurezza sottoscritti dalla regione Veneto, per esempio nel caso nostro, dai sindacati, e ha dotato i lavoratori degli strumenti di protezione, ha fatto soprattutto l'informazione che è essenziale, importantissima, la presunzione non opera. Quindi il datore di lavoro è liberato da questa presunzione di colpa, si è dato adesione e quindi ha fatto tutto quanto era nel suo potere al sistema delle regole che è stato adottato in questo periodo, in questo frangente. Quindi la soluzione al momento per stare più tranquilli per i datori di lavoro dovrebbe essere adottare scrupolosamente quelle che saranno le disposizioni in termini di sicurezza sulle aree di lavoro. Sì, assolutamente. Questo è quello che possiamo dire oggi, perché il ministro, il sottosegretario è chiaro, dice che il rispetto puntuale del set di regole messo a punto è in grado di evitare che all'imprenditore possano essere effettuate contestazioni anche di natura penale. Chiaramente questa non può essere la soluzione, perché non è una legge, è una risposta data da un sottosegretario a un question time. Però questo è il primo indirizzo. Ovviamente quello che tutti gli operatori auspicano è che ci sia una norma che chiarisca questa situazione. Vero che siamo in una situazione eccezionale, ma come ha detto l'altro giorno la Presidente della Corte Costituzionale, Marca Cartabia, non esiste un diritto eccezionale per situazioni eccezionali. Il diritto è diritto e le norme devono essere chiare e comprensibili. Quindi noi attendiamo un chiarimento normativo sul punto. Servono azioni coraggiose anche da parte del Comune per superare questo momento difficilissimo. Nel corso del Consiglio Comunale, durato quasi cinque ore, maggioranza e opposizione hanno chiesto alla Giunta Senatore il coraggio di fare scelte innovative per sostenere famiglie ed imprese così duramente colpite dalla crisi sanitaria. Nel corso della seduta sono state ratificate alcune delibere di Giunta che intervenivano proprio per affrontare l'emergenza. Tra questi il differimento a settembre di alcune imposte comunali. Una scelta che, pur condivisa da tutti, è stata definita il minimo sindacale. Non solo la Lega, ma anche il gruppo di maggioranza, Noi siamo a Portuguaro, ha chiesto alla amministrazione di non agire con il freno a mano tirato. Tra le proposte avanzate dai consiglieri di maggioranza Raffaele Foglia e Cristian Moro, ad esempio, quella di chiudere il traffico il centro dal venerdì alla domenica e di concedere l'uso gratuito degli spazi pubblici liberati dall'auto agli esercizi pubblici. Dobbiamo dare la possibilità, ha suggerito Moro, di raddoppiare gli spazi dei plateatici. Il tema dello spazio, ha aggiunto Foglia, è quello principale in questa fase 2 dell'emergenza. È probabile che ai comuni sia delegato lo sforzo maggiore per rilanciare l'attività quotidiana. Dobbiamo essere preparati e pronti. Per i consiglieri di maggioranza non basta la sospensione delle imposte ma serve l'eliminazione per un anno delle tasse comunali. Le risorse, ha concluso Foglia, potrebbero essere reperite rinunciando a progettualità in programma, progetti che in situazioni di emergenza devono lasciare il passo o le priorità. Ad esempio il palazzetto dello sport di Pradipozzo che tra l'altro in questo momento perderebbe il suo vero valore per cui è stato costruito l'aggregazione. Il 60% delle entrate del comune sono entrate fiscali, ha replicato l'assessore del bilancio Bertilla Bravo. Siamo in attesa di capire i contenuti dei prossimi decreti e di vedere dal bilancio consultivo l'entità esalta dell'avanzo di amministrazione per programmare interventi mirati. Gli investimenti, come quelli per Pradipozzo, ha aggiunto, sono già definiti, c'è un appalto assegnato, non si può tonare indietro. Questa amministrazione, ha rivedito il sindaco, senatore, sta già studiando le possibili misure di aiuto da dare a tutte le categorie con risorse ricavate dal bilancio comunale. In questa fase possiamo solo posticipare le scadenze per avere il tempo di organizzare azioni più puntuali. In conferenza dei sindaci, alcuni di noi si sono lamentati per lo slancio in avanti, fatto dai colleghi su alcuni temi, che rischiano di restare delle promesse senza supporti normativi precisi. Ad esempio, sul tema dell'utilizzo di spazi della strada per i plateatici, mi sono già interfacciata con gli organi competenti della ULS, che mi hanno detto che le norme igienico-sanitarie pre-covid non sono cancellate e quindi verrebbe richiesto il pavimento lavabile e una copertura per evitare che cadano oggetti dall'alto. Non possiamo inventarci delle norme personali di deroga. Si concluderà durante questo fine settimana la seconda consegna porta a porta dei dispositivi di protezione individuale per i cittadini. Ciascuna delle oltre 17.000 famiglie residenti a San Dona ha trovato o troverà nella cassetta della posta una confezione chiusa contenente le mascherine. La distribuzione è stata effettuata prevalentemente dai volontari autorizzati, singoli e in forma associata, tra cui a Gesci, delle parrocchie Duomo, San Pio X, Mussetta, il gruppo della fanfara dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, di San Dona all'Alta, l'Associazione Lagunale Truppe Amfibie, la protezione civile, supportati anche dal personale dipendente del comune. Con l'ingresso nella fase 2, accanto alla giunta, alla giusta voglia di ricominciare, dobbiamo sempre tenere presente che è necessario modificare molte delle nostre abitudini, tra queste l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come mascherine o guanti, o soluzioni disinfettanti per le mani, che ci accompagneranno anche a lungo. Cercheremo di sostenere i cittadini in questo sforzo, ma ricordiamo che è assolutamente necessario che ciascuno si renda responsabile, ha detto l'assessore ai lavori pubblici, Lorena Marin. Ringrazio il lavoro dei dipendenti e dei volontari che ha reso possibile anche questo servizio ai cittadini, conclude il sindaco Andrea Cereser. Ricordo che la mascherina non è di tipo chirurgico, ne costituisce un dispositivo, ma può essere utilizzata esclusivamente per uscire a fare la spesa. Rinnovo il mio invito ai cittadini perché continuino a comportarsi con responsabilità in questa fase 2, consentendo una ripresa delle attività sicura e quindi stabile e duratura. Nell'esito dell'incontro che oggi abbiamo avuto come G20, come le maggiori spiagge italiane, di cui io sono il coordinatore, nell'incontro dicevo con il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Barretta. Allora, tra le molte cose che sono state toccate, bilanci comunali, necessità di aiuti a tutti, voglio dire una cosa. Si è soffermato il sottosegretario sul sostegno nella condizione di difficoltà. Allora, ci ha detto che nel nuovo decreto, che è di aprile, ma in realtà andrà a vigore a maggio, ci sarà una estensione della cassa integrazione anche per il settore turistico, con altre nove settimane. Il prolungamento della Naspi, ma soprattutto ciò che a noi anche interessava molto, era tutte quelle categorie di lavoratori che non sono contrattualizzati con il turismo o con la stazione termale di quei decreti precedenti, venissero ricompresi come aiuti di Stato. E questo reddito di emergenza dovrebbe chiudere tutto il pacchetto inerente ai lavoratori stagionali, senza lasciare fuori nessuno. Noi abbiamo spinto tantissimo su questa cosa, speriamo di essere arrivati proprio a risolvere questa situazione che è molto importante, che lascia fuori veramente tanti. Basta pensare che uno che lavora, una persona che lavora in un esercizio commerciale, in un supermercato, che non ha un contratto del turismo e la cui azienda non ha un codice a teco relativo a questo, non vode degli aiuti di Stato. Questo è veramente discriminante, bisogna porre il rimedio a questo. Il suo segretario poi personalmente ha detto che lui spingerà per, in questo caso è un termine personale, spingerà per togliere i cam di concessione maniali per il 2020 e noi abbiamo aggiunto anche per il 2021 perché veramente i concessionari oggi sono senza liquidità e lo saranno anche nel 2021, visto che si prevede purtroppo una non forte presenza di turisti sui territori. Un'altra cosa che ritengo importante è che sicuramente è certo, ma è il bonus vacanze, cioè per, lui ha usato il termine milioni, ma insomma per molte famiglie italiane ci sarà una detraibilità sotto il profilo fiscale della spesa per fare le proprie vacanze. Non ci ha detto se è il quale percentuale, ma insomma aspettiamo questo decreto con questa impostazione che vi sto dicendo. Altre cose sono state dette, ma insomma sarebbe un po' lungo. Una cosa importante invece per gli imprenditori, per tutti noi città balneari turistiche, è che stanno studiando i cinque ipotesi di protocollo sanitario al vaglio appunto del comitato tecnico scientifico, che non sono cinque protocolli diversi, non sono cinque protocolli che abbracciano attività diverse, quindi questo ci tengo a dirlo, e che a pochissimo, a pochi giorni verranno in qualche maniera presentati. Di modo che questa nostra idea di essere pronti il primo giugno, e lo saremo, possa essere confermata anche da questi protocolli sanitari, che è una cosa di cui abbiamo assolutamente bisogno per poter in qualche maniera organizzarci e quindi ricevere nelle dovute mode, nei dovuti modi e anche con la sicurezza sanitaria, i nostri graditissimi ospiti. Facciamo un punto sul servizio di assistenza scolastica. Questo servizio, erogato tramite l'azienda US2 e pagato con i bilanci del sociale dei comuni dell'azienda US2, era stato sospeso a causa del Covid-19. Ricordiamo che di questo servizio ne fruivano circa 850 ragazzi di tutta la nostra azienda sanitaria. Ora, grazie alla DGR 445 del 2000 della Regione Veneto, e ringrazio il Direttore dei Servizi Sociali Dottor Derre, il Direttore Generale e i responsabili dei vari servizi dell'età evolutiva, è possibile per le famiglie usufruire di questo servizio in una modalità a domicilio. Pertanto, la famiglia deve collegarsi al sito dell'azienda US2 marca trevigiana, all'interno troverà la modalità assistenza scolastica e verrà predisposto un modulo da compilare, in cui verrà scritto se il ragazzo frequentava il servizio età evolutiva, oppure la nostra famiglia, oppure il centro Samarotto, che è il centro relativo all'autismo. Ogni famiglia dovrà individuare le modalità di assistenza a domicilio, individuando la giornata, individuando alcune cose che riguardano la temperatura rispetto ai ragazzi, proprio per mettere in sicurezza anche gli operatori che andranno a domicilio, e ci sarà tempo fino al 6 giugno per presentare questa domanda in formato telematico nel sito dell'azienda US2. Quindi, successivamente, si partirà con questi progetti che, ripeto, saranno svolti a domicilio, grazie alla collaborazione con l'azienda US2, ma soprattutto con la cooperativa e quindi con gli operatori che già prima seguivano i nostri servizi. Pertanto il grazie va all'azienda sanitaria, ma a tutti quanti i responsabili e gli operatori che saranno impegnati per far ripartire a domicilio il servizio di assistenza scolastica per l'azienda US2. A nord-est lavori a pieno ritmo in autostrada, approfittando del traffico ancora scarso. Si tratta sia di interventi riguardanti la costruzione della terza corsia sia di manutenzione del manto stradale che chiederanno chiusure e modifiche alla circolazione. Il primo lavoro inizia proprio quest'oggi, alle 23, riguarda 7 km di A4 dalla barriera di Trieste-Lisert allo svincolo di Redi-Puglia, in direzione Venezia, tratto dove sarà rifatta la pavimentazione, particolarmente usurata per la concentrazione di mezzi pesanti in transito. Il traffico proveniente da Trieste sarà quindi spostato sulla careggiata opposta, dove si viaggerà a doppio senso di marcia. Il casello di Redi-Puglia in uscita sarà chiuso. L'intervento durerà fino alle 21 di domenica. Autostrada a quattro chiuse, invece, tra Porto Gruaro e Latisana, in entrambe le direzioni, dalle 19 di questo sabato alle 13 di domenica, per consentire due diversi tipi di interventi. La predisposizione del fondo stradale per la stesa dell'asfalto drenante e la spinta di uno scatolare in cemento armato, una struttura a forma di epipedo cavo, sotto l'autostrada. Operazione è questa piuttosto complessa e lunga, indispensabile per realizzare il collegamento idraulico fra i fossi che raccolgono l'acqua della campagna a nord dell'autostrada, con quelli a sud. Veicoli che provengono da Venezia, diretti a Trieste, che dovranno uscire alla barriera di Porto Gruaro e proseguire sulla viabilità esterna per poi rientrare alla Tisana. Chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia dovrà uscire invece alla Tisana e rientrare a Porto Gruaro. Chi proviene dalla A28 porterà a immettersi sulla A4 solo in direzione Venezia, mentre se è diretto a Trieste dovrà uscire a Porto Gruaro e proseguire sulla viabilità ordinaria per poi rientrare in A4 al casello di Latisana. Gli scatti dal territorio arrivano con Vinicio Scortegagna. C'è Foto Reporter. Grazie a Vinicio Scortegagna e a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto orientale. Ci fermiamo qui con questa edizione. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24 con i nostri live e i nostri servizi. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e a risentirci alla prossima.